E' giunto il momento di intervenire in quanto la spiaggia della Mancina non può sopportare per venti giorni l'invasione di alghe puzzolente e maleodorante. Le affermano dal movimento insieme dopo che l'ultimo tratto di spiaggia a maniera di Ragusa fino al molo di Levante del porto turistico ha dovuto sopportare questa imbarazzante situazione. Per il movimento ragusano è inaccettabile, fuori d'ogni logica, lasciare ammassate su una striscia di spiagge tutte quelle alghe che giorno dopo giorno sono diventate inavvicinabili oltre a procurare estremo disagio ai residenti e villeggianti. Forse il sindaco Piccitta e l'assessore all'ambiente dicono da insieme, anziché far rimuovere le alghe alla ditta di Geno Urbana stanno aspettando qualche mareggiata che riesca a ripulire quel tratto di arenille. Lo sperano i cittadini, concludono da insieme, ma soprattutto lo sperano i fruitori della spiaggia in questione.